a farmi fare un figlio quella donna mi ha accolto in un momento difficile della mia vita con lo singh è riuscita a legarmi a sé e a farmi fare un figlio che non so nemmeno se è mio io sono stato accalappiato commento tu hai scelto di essere accalappiato perché in quel periodo evolutivo della tua vita e ringordo delle lusinghe di quella donna